Buongiorno, cioè in realtà non lo so che ora è per te, per me è mattina. Comunque, benvenuto alla presentazione su pendenza e intercetta. Questa presentazione non ti insegna come risolvere pendenza e intercetta degli y, però spero che ti dia una buona intuizione su che cosa sono pendenza e intercetta e faremo qualcosa di un po' diverso da quello che facciamo di solito. Non useremo la lavagna, andremo direttamente sul sito web della Khan Academy e utilizzeremo l'esercizio sui grafici lineari per ottenere un po' di intuizione su che cosa sono pendenza e intercetta di y. Allora, quando l'applicazione inizia, comincia sempre con l'equazione y è uguale a 1x più 1, che è lo stesso di dire y è uguale a x più 1, però si vede almeno che la pendenza è 1 qui. Se hai guardato l'introduzione sui grafici, ne ho parlato, la pendenza è il coefficiente del termine x. E se vedi qui, ogni volta che ci spostiamo di 1, saliamo di 1. e farò un altro modulo sul fatto che la pendenza è in realtà salita fratto percorso. Però, che vuol dire che per ogni ammontare che sali, quanto devi percorrere? La salita significa solo quanto cambi y, mentre quanto percorre è quando cambi x. Quindi la salita per il percorso di 1, in questo caso, vuol dire che è 1. E l'intercetta è dove invece intercetti l'asse y. Ora, quando cambio la pendenza e l'intercetta, penso che comincerà ad avere un po' di senso. Guarda che succede quando la pendenza passa da 1 a 3 mezzi. 3 mezzi è come dire 1 più 1 mezzo, no? E nota che è diventata più ripida. E se aumento la pendenza, diventa ancora più ripida, quando y è uguale a 2, per esempio. Se lo incremento ancora di più, 5 mezzi è come dire 2 e 1 mezzo, no? Quindi, più aumento la pendenza, penso che vedo che cosa sta succedendo. E questo affare è saltella, lo dovrei sistemare. Fammi tornare indietro. In realtà, l'obiettivo è quello di far passare la linea attraverso questi due punti, questi due punti blu, ok? Questo è l'obiettivo di quello che suppongo tu possa chiamare questo gioco. Non mi piace come saltella questo affare, però, eh? Allora, questo era interessante, fammi tornare lì. Ecco qua. Y è uguale a 0x più 1. Avremmo potuto semplicemente riscriverlo come y è uguale a 1, perché 0x è come dire 0. E nota che si tratta di una linea completamente piatta, non importa quale sia x, y è sempre 1. E questo ha un senso, perché qui c'è semplicemente y è uguale a 1, no? Ora, ti ho mostrato che cosa accade alla pendenza. Nota che succede se abbiamo una pendenza negativa. La pendenza è inclinata, la retta è inclinata verso il basso, inclinata negativamente, è una pendenza di meno un mezzo. Quindi diciamo che la crescita in questa situazione è meno 1 e il percorso è 2. Ecco perché abbiamo meno un mezzo, ok? E ci siamo solo occupati della pendenza fino adesso. E credo che tu abbia capito come al diminuire della pendenza la linea va sempre più giù, ok? Sempre più verso il basso. La pendenza andrà verso il basso. Odio usare una parola nella definizione, però la pendenza è quello che è. Penso che nel disegno lo vedi. Però adesso invece aumentiamo l'intercetta. Oh mamma mia, che è successo? Che strano! Allora, dicevo, l'intercetta di y, ok? Se aumenti l'intercetta di y, nota, meno 1x più 2, la pendenza è meno 1, ok? Però interseca l'asse y sul più 2, ok? Ora, se aumenti l'intercetta di 1, sposti semplicemente la y di 1 più su. Facciamolo. Vedi? Ah no, questo in realtà aumenta con incrementi di un mezzo, questo qua. Facciamone un altro. Voglio vedere che cosa succede su un altro grafico. In realtà dipende dal problema di quanto aumenti e diminuisci. Allora, ok, questo è interessante. Allora, si parte sempre dallo stesso punto, no? Tentiamo davvero di capire l'equazione della linea che passa attraverso questi due punti qua. Ok? Allora, vediamo. Sembra che l'intercetta di y debba stare un po' più in basso, no? Non capisco perché fa così. Allora, porta semplicemente la linea verso il basso all'abbassare dell'intercetta. E vediamo, penso che la pendenza debba essere un po' più elevata, perché questi due punti, se no, non lo riusciamo. Secondo me è un po' più ripido. Ancora un po'. Secondo me ci siamo con la pendenza. La pendenza è questa, perché questi due punti, se li colleghi, sì, penso che la pendenza sia giusta. Però l'intercetta deve essere inferiore. Ok? Dobbiamo intercettare l'asse y in un punto più in basso. Ci siamo quasi, eh? Ancora. Eccoci qua. Ecco fatto. Quindi l'equazione di questa retta è 7 quarti x, quindi 7 quarti che è 1,75. Quindi la pendenza di questa linea va su più veloce di 1, ok? Di un primo. E lo puoi tipo vedere. Ti farò vedere come capirla questa cosa. Però questo ti dà un po' un senso intuitivo di che cosa sono y e x. E l'intercetta ha meno 13 quarti, che è un po' più di meno 3. Lo puoi vedere da qua, eh? Vediamo se possiamo farne un altro. E se vuoi, puoi anche farlo questo modulo. Ci puoi giocare, proprio come sto facendo io, eh? Quindi vediamo. La linea che vogliamo ottenere, la retta che vogliamo ottenere, è tipo una cosa del genere. Ok? Sembra che la pendenza sia proprio quella attuale. Magari... Ma no, eh? Così è, secondo me, abbastanza buona. Secondo me è 7 ottavi. Che vuol dire che per ogni 7 che percorri ti sposti in alto di 8. In questo modulo lo sto facendo un po' al volo, eh? Quindi mi scuso. Ma in realtà faccio ogni modulo al volo. Quindi penso davvero di dovermi scusare. Però non è che stai pagando per questa cosa. Quindi in realtà io non ti dovrei chiedere scusa. Scusa, mi distraggo molto facilmente. Allora, vediamo. Spostiamo questa linea in alto, eh? E quindi lo fai solo per l'intercetta. Puoi vedere che facendo salire la linea in alto, l'inclinazione non cambia. La pendenza è quella che cambia l'inclinazione della linea. Questa cambia l'intercetta. Quindi ecco qua. Quindi l'equazione di questa linea è 7 ottavi x più 13 quarti. Vediamo se quello che ho detto circa la pendenza è giusto. Quindi se ci spostiamo di 8 dovremmo salire di 7. Mi sposto di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo ci porta dritti qui. E quindi dovremmo salire di 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E questo ci porta proprio su questi esatti punti. Però insomma, ci siamo. Allora, disegno un'altra cosa del genere. Quindi se ti sei confuso, non ti perderai l'animo. Facciamone un altro, ok? Allora, dove sta l'altro punto? Non lo so, non lo vedo. Fammi vedere. L'altro punto non c'è? Devo correggere il bug in questa cosa. Ah, eccolo là, eccolo là. Si è fatto vivo, eccolo, eccolo, eccolo. Quello è eccellente. Allora, guarda. Dobbiamo far passare la linea attraverso questi due punti qui. Ok? Quindi la pendenza sarà negativa, non troppo negativa, eh. E intercetta l'asse y qui da qualche parte. Sarà tipo 7 e qualcosa. 7 spicci. Quindi, prima di tutto abbassiamo questa pendenza. Ok? Allora, questo affare risalterà di nuovo. Nota che quando y è uguale a 0x, eh, è piatta. Se aumentiamo, invece, l'intercetta questa sale. È un po' pieno di bug, eh. Devo averla scritta quando avevo un minore competenza in programmazione. Ok, allora, la pendenza... Eh, forse potrebbe anche andare bene, ok? Adesso fammi far salire questa retta. Sembra... Mi sa che ancora la pendenza... Allora, vedi, l'intercetta sta alzando la linea, no? Alzi l'intercetta, si alza la linea. Ah, ecco qua. Ah, bene, l'ho indovinata, avevo ragione. La pendenza è negativa, perché lo vedi che è inclinata verso il basso, no? Però non è inclinata troppo velocemente verso il basso. Si ha senso, perché la pendenza è meno un terzo, eh. E quindi ha un senso, perché se ci spostiamo di uno, due, tre... Uno, due e tre... Ci alziamo di meno uno, ok? Ci alziamo di meno uno. Ecco perché viene meno un terzo, così. Ecco perché la pendenza è meno un terzo. E poi l'intercetta è ventidue terzi, che è sette più un terzo. E quindi lì intercettiamo l'asse y a un terzo della strada tra sette e otto. Penso che questo dovrebbe darti almeno un po' di intuizione su che cosa sono pendenza e intercetta di y, ok? E puoi giocarci con questo modulo, ok? Ci puoi giocare da solo. E farò un altro po' di moduli in cui effettivamente calcoli pendenza e intercetta. E spero che ti daranno un'intuizione anche migliore di quello che sono, eh. Ma spero che tu ti diverta a giocare con questa roba. Mi ricordo che io ero molto emozionata quando ho imparato questa roba, perché è molto visiva. Quindi buon divertimento.